Grazie a tutti. Ha sentito Macron? Ha intenzione di sentirlo nelle prossime ore? Non ho sentito Macron ma vorrei dire che comunque il rapporto tra Italia e Francia è un rapporto che ha una radice antiche di ordine culturale e economico e quindi è un rapporto che non può essere messo in discussione da contingenze. Beh però qui si giocano gli interessi nazionali Presidente, c'è la sensazione che politicamente non si voglia questo disgello con la Francia e oggi appunto quest'atto dell'Eliseo davvero senza precedenti molto grave. Confido che si possa chiarire subito la situazione e in ogni caso mi sembra anche, ho letto una dichiarazione del Vice Presidente Di Maio, mi sembra che sia stato chiarito che da un lato ci sono delle iniziative che ovviamente riguardano i movimenti, i partiti politici, è il caso di Gile Gialli e lui in quel caso agito come capo politico e del Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda il resto si tratta di un confronto su temi come l'immigrazione, i modelli di cooperazione allo sviluppo anche con l'Africa che peraltro poi hanno delle ricadute evidenti anche sul tema stesso dell'immigrazione dove è legittimo aprire un dibattito, un dibattito che deve essere non solo nazionale ma deve essere neppure bilaterale, un dibattito europeo perché siamo in una dimensione europea e tutti possono partecipare e questo dibattito deve essere portato avanti anche in termini costruttivi ma deve essere aperto. Tra i nodi da sciogliere con la Francia c'è certamente quello sulla TAV, tutto è legato all'esito dell'analisi costi e benefici o secondo lei c'è uno spazio per un compromesso politico, per una soluzione su questa grande opera? Guardi, io l'ho detto dall'inizio e non verrò meno assolutamente a questo, il governo ha deciso collegialmente di intraprendere una strada, un metodo di lavoro, l'abbiamo già sperimentato con altri cantieri importanti e ha portato dei buoni frutti perché è il metodo migliore per tutelare gli interessi degli italiani. Quindi qui non si tratta di fare valutazioni sulla base di singole inclinazioni, valutazioni personali, si tratta di all'esito di questa attività istruttoria che viene compiuta di riunirsi e decidere collegialmente in modo trasparente. È l'unica garanzia che veramente si offre agli italiani di una decisione che appunto non sia né emotiva né sia diciamo preda di valutazioni personali ma sia fatta nell'interesse collettivo. In questo rapporto compromesso con la Francia pesano più motivi politici o economici? Io non credo affatto che il rapporto sia compromesso, quindi assolutamente, ripeto, c'è un rapporto così antico tra i due paesi che qualsiasi passaggio anche istituzionale diciamo un po' vivace e confido possa essere presto superato. Veniamo all'economia. Lei dice che le nostre valutazioni sono corrette, non quelle della Commissione europea, però la Commissione ha messo nel conto, dice di aver messo nel conto anche gli effetti, l'impatto positivo della manovra perché la risposta finora data dal Governo alle previsioni negative per il 2019 è che l'Italia tornerà a crescere proprio perché non si considera l'impatto della manovra. Se invece avesse ragione la Commissione verrebbero a mancare tanti miliardi e quindi i vostri conti non tornerebbero più. Sono assolutamente sicuro che i nostri conti torneranno. Vorrei dire che si tratta di previsioni illegittime che vengono fatte da istituzioni anche internazionali e agenzie di valutazioni ma vorrei che fosse chiaro che questo Governo non si fa dettare l'agenda dalle previsioni che di volta in volta vengono fatte all'estero. Noi abbiamo un programma di lavoro ben chiaro solo per offrire un piccolo esempio di questo piano molto chiaro e di un'agenda che noi stiamo attuando già da diversi mesi. Tenga conto che io lunedì sarò in tre regioni, Molise, Basilicata e Sardegna per porre le premesse di contratti di sviluppo, un piano di investimento e di sviluppo come già fatto in un progetto pilota avviato in Puglia. Quindi noi stiamo operando e non saranno altri che ci retteranno l'agenda. Abbiamo un piano molto chiaro, abbiamo misure, ciascuno può fare le sue valutazioni ma vorrei dire che le nostre misure non sono state ancora attuate o saranno nei prossimi mesi come abbiamo ad esempio a febbraio, l'ho già detto, avvieremo e attueremo il piano nazionale per quanto riguarda la messa in sicurezza del territorio e il riamodernamento delle infrastrutture. Avremo tante altre iniziative, ho lanciato anche il piano per i cantieri per accelerare i cantieri che non sono bloccati, sono in corso. Quindi parleremo con i fatti. C'è chi fa previsioni, legittimamente, intendiamoci, noi agiamo con i fatti. Ha sentito in queste ore dopo la crisi con la Francia il Presidente Mattarella? No, non ha avuto modo anche perché è stata una giornata intensissima. Presidente, la crisi del Venezuela, Guaidò le ha scritto, cambia la posizione dell'Italia o no? La posizione dell'Italia non cambia perché è una posizione non presa in modo estemporaneo ma frutto di una meditata valutazione. Noi riteniamo che il modo migliore perché si esca da uno stallo e da un impasse che può arrecare e sta arrecando grave pregiudizio, una situazione drammatica per la popolazione venezuelana, per la popolazione civile, il modo migliore è non schierarsi a favore dell'uno o a favore dell'altro. In questo momento anche altre esperienze storiche ci insegnano che schierarsi sull'uno rischia poi di polarizzare lo schieramento di altri sugli altri protagonisti. Noi abbiamo ben chiaro, e l'abbiamo detto, il Presidente Maduro è un Presidente che non ha legittimazione democratica perché evidentemente le elezioni non si sono svolte in modo trasparente e corretto secondo gli standard internazionali. La comunità internazionale non l'ha riconosciuto e quindi se ne devono trarre le conseguenze. Questo però non significa riconoscere, in base a criteri di legittimazione democratica, in questo momento non ci sono chiari, riconoscere il Presidente Guaidò. Confidiamo che tutti coloro che hanno una responsabilità nel Venezuela acconsentano quanto prima, il prima possibile, in tempi brevissimi, a nuove elezioni presidenziali, democratiche, secondo gli standard che noi riteniamo corretti, secondo i principi dello Stato di diritto. Il fatto che anche su questo non ci sia una linea politica comune in Europa, lei come lo giudica? Guardi, è normale che ci possa essere delle valutazioni diverse, però tenga conto che l'Unione Europea ha assunto una posizione chiara e condivisa, formale, il 26 gennaio, che noi abbiamo sottoscritto, anzi, come ha riconosciuto la Mogherini, personalmente ho contribuito a elaborare quella posizione. Quindi non è proprio corretto che l'Unione Europea non abbia assunto una posizione sul punto condivisa. Dopodiché, legittimamente, qualche Paese, qualche singolo Stato membro, può fare ulteriori considerazioni. Grazie a tutti. Buon lavoro. Anche a voi.